Nuova operazione per Marco Tuminello. Quest'oggi lo sfortunato attaccante in un post sui social ha ringraziato lo staff del dottor Volker Luminare per le problematiche legate al ginocchio che ha seguito in passato anche Zlatan Ibrahimovic dopo il gravissimo infortunio ai tempi dello United. Volevo ringraziare il dottor Volker e l'equip americana per avermi messo a posto, mi auguro, una volta per tutte, ma soprattutto chi mi è stato accanto in questo momento difficile. Una carriera travagliata, quella dell'attaccante scuola Roma, di proprietà dell'Atalanta ed in prestito al Pescara. Prima la rottura del crociato del ginocchio sinistro lo scorso settembre, due anni prima con il crotone all'altro ginocchio. Durante il lockdown le grottaglie contava di averlo a disposizione per il rush finale ed invece in piena preparazione ai primi di giugno un nuovo infortunio, distrazione al collaterale del ginocchio destro e stagione finita. Tuminello ora spera, con questo intervento, di aver eliminato le cause che lo rendono soggetto a questi gravi infortuni difficili alla sua permanenza a Pescara. Lo stesso presidente Sebastiani Arreplei un mese fa aveva detto che la volontà era quella di rinnovare il prestito, ma che sarebbe stato difficile in caso di nuova operazione, come appena accaduto. Intanto il Pescara ha messo nel mirino il delicato match dello Zini contro la Cremonese. La compagine grigio-rossa è la principale delusione della Serie B, costruita per vincere con enormi investimenti del club e fior di individualità. E invece si trova a lottare per non retrocedere e allo Stato occupa quel piazzamento play-out che il Pescara vuole tenere a distanza. Sono cinque i punti che dividono la Cremonese del Delfino e quel pareggio in trasferta che ancora manca, venerdì, sarebbe grasso che cola. Nel mezzo di una stagione travagliata ben quattro sono state le guide tecniche che si sono alternate, Rastelli, Baroni, Rastelli-Bis e Bisoli. Quest'ultimo dopo le vittorie in trasferta con Frosinone e Ascoli si è complicato la vita con le sconfitte Casalinghe con Benevento e Cosenza e poi il Beffardo 3-3 di Salerno. Bisoli, appiedato dal giudice sportivo, non sarà in panchina, squalificato Arini a centrocampo potrebbe tornare Castagnetti. Con Migliore che non ha rinnovato il contratto in scadenza ed è andato via, Zortea insidia la maglia di uno degli ex Crescenzi. Sul fronte a Pescara rientrano Bettella e Masciangelo, il primo sarà sicuramente titolare, Masciangelo potrebbe spuntarla su Crecco. Scalpita anche Palmiero per un posto in mediana. Dirigerà l'incontro Lorenzo Maggioni di Lecco con cui i biancazzurri hanno due vittorie e una sconfitta all'attivo in tre direzioni. Il capo è di questa stagione, 2-1 a Cittadella. Magrissimo bilancio dei Lombardi con Maggioni, zero vittorie, un pareggio e tre sconfitte ma nessuna direzione in questo campionato. Circa i precedenti tra le due squadre allo Zini, nelle ultime due stagioni altrettanti pareggi per 0-0 e 1-1. Nel complesso due le vittorie del Delfino, l'ultima nel 98 per 0-3 con due reti di Mauro Esposito, quattro i pareggi e sei le sconfitte. L'ultima nel 2006, Cremonese Pescara 2-0. L'ultima nel 2008, Cremonese Pescara 2-0.